Sento anche il tuo libro A Giorgio Scompra, comune qui ce ne sono solo un paio Giorgio Winkler Il video l'ha fatto lui L'ho scaricato da Youtube No, è in bassa definizione E poi molti video non li legge Vinillo, fai foto La puoi tirare per favore? Vai Sì, li faccio un po' una è finella finella? finella si era per il pericolo ma poi dobbiamo andare in là lo conosci lo conosci a Maurizio Pilla? si si lo ho insegnato io a fare le riprese lo sai sono io il suo maestro no no basta ragazzi e poi gli amici stavo facendo i qua una volta ci hanno datti i quattro Robi perché qua c'è un personale che non c'è vicina a noi eccetera qui cosa è? questa è la sua questa è la sua non è la sua buon appetito!